Il mondo Pokémon. Un mondo pieno di misteri, di sorprese, di verità nascoste. Riferimenti mitologici reali alla base d'ogni creativi. Pokémon con combinazioni di tipi devastanti, non ancora scoperte dall'uomo. Esseri evanescenti, incompleti, che danneggiano la nostra realtà. E Pokémon dei quali ancora non conosciamo nulla, neanche le loro intenzioni. Di quali verità hai bisogno? Io sono Cydonia e ho scelto di scoprirle tutte. Questo è il canale di Pokémon Millennium, se ti piacciono i Pokémon è il posto che fa per te. Tanti aggiornamenti sulle ultime notizie e rubriche che parlano del mondo Pokémon. C'è un nuovo video ogni lunedì, giovedì e venerdì alle 15.30. Ti aspetto! Sei pronta a affrontare il mio Houndoom? Come se non ti avessi battuto le ultime cinque volte. Oddio, effettivamente. Tutto a non sia la fine. Tutto a non sia la fine. Tutto a non sia la fine che chiude. Grazie a tutti.